Salve a tutti, benvenuti in questo nuovo video questo nuovo video che cerca anche di seguire le vostre richieste sicuramente è un video che vuole dare importanza a tutto quello che avviene nel mondo della scuola lo intitolo questo video scuola marzo sicuramente stiamo nell'anno 2021 oggi è venerdì, almeno per me, venerdì 12 marzo allora vado al succo, al cuore del discorso così coloro che mi stanno seguendo riescono a comprendere meglio qual è il focus di questo video sicuramente è utile fare un ripasso relativo alle parole chiave che vengono spesso utilizzate nel linguaggio scolastico anche perché vi è un problema al contesto positivo delle parole chiave vi è un contesto negativo di un problema, a mio avviso, cruciale del lessico pedagogico in quanto molto spesso accade che nella scuola vengono usati i termini di espressioni linguistiche che vengono o che possono essere interpretate in maniera diversa e questo quindi implica dei deficit comunicazionali anche di dialogo tra docenti, tra colleghi e può generare sicuramente equivoci ambiguità ed altro ovviamente altre difficoltà ovviamente io vorrei quindi a questo punto argomentarvi in maniera estremamente sintetica alcune parole molto usate all'interno del mondo della scuola per poter fare chiarezza perché poi sono tra di esse correlate allora vediamo la prima parola la parola capacità e la creiamo una relazione con con una domanda che potrebbe uscire al concorso che cosa si intende con capacità nelle raccomandazioni ovviamente nelle raccomandazioni delle ultime leggi allora la capacità è intesa come un potenziale è un potenziale o anche una propensione dell'essere umano a pensare fare agire riguarda tutto ciò che la persona può fare tutto ciò che si può fare tutto ciò che si può pensare ed agire però ancora questa possibilità questa possibilità non è stata trasformata cioè il poter essere attraverso la capacità può diventare l'essere ripeto non è detto che una capacità possa essere trasformata e quindi se non è stata trasformata si parla di possibilità che essa possa essere ma ancora non di realtà qui siamo nel campo della possibilità qui siamo nel campo concreto della realtà e ancora una parola molto utilizzata è la competenza e la domanda a fine ovviamente è che cosa si intende per competenza dello studente allora per competenze si intendono tutte tutto ciò si intende tutto ciò che siamo effettivamente in grado di fare ciò che siamo fattivamente in grado di fare pensare agire nell'istante attuale sia nei nostri confronti sia ad unità più complesse che riguardano problemi situazioni di un certo tipo che siamo chiamati ad affrontare e risolvere quindi in relazione a diversi contesti ovviamente io devo sono chiamato in questo senso a generalizzare anche alcune questioni perché ovviamente poi tutte queste parole vengono riutilizzate in maniera più specifica in relazione ad esempio alla valutazione in relazione ad esempio alla programmazione di un'unità didattica di apprendimento però già poter vedere tutto insieme e poterlo correre secondo me è un vantaggio ok poi ovviamente voi nei commenti mi dite ciò che ne pensate si parla spesso si parla sovente di conoscenze e abilità allora ne parliamo anche noi che cosa sono allora le prime le conoscenze sono il prodotto dell'attività teoretica dell'essere umano e dello studente quindi attività teoretica quindi riguardano tutto il sapere sia il sapere teorico che il sapere pratico le abilità vanno un pochettino a completare le conoscenze sono un prodotto di una razionale di un raziocinio tecnico dello studente e quindi si riferiscono al saper fare ma ovviamente non solo saper fare ma si ovviamente oltre a saper fare bisogna sapere anche le ragioni e le procedure di questo saper fare quindi tutto quello che è indispensabile al saper fare adesso nuova nuovo insieme di parole molto utilizzate gli obiettivi specifici gli obiettivi specifici di apprendimento gli osa osa obiettivi specifici di apprendimento questa sera non vengo in live perché come dicevo ad uno di voi quando sono in live poi devo leggere anche i commenti quindi ovviamente sicuramente si riesce ad approfondire meglio l'argomento però riesco ad affrontare meno questioni quindi cioè sono in sto registrando in live come al solito però non sono in diretta streaming quindi voi non mi potete scrivere istantaneamente ma mi potrete scrivere nei commenti gli obiettivi specifici di apprendimento riguardano sicuramente le conoscenze ecco che andiamo adesso finalmente anche a ricollegare il tutto quindi le conoscenze quindi il sapere le abilità che abbiamo anche definito come il saper fare che ovviamente gli studenti devono riuscire ad apprendere attraverso le attività educative e le attività didattiche al fine che si possano che si possa promuovere grazie ad esse si possano promuovere le competenze individuali finali ovviamente si parte dalle capacità poi tramite le conoscenze e le abilità si arriva alle competenze quindi a questo punto ho citato capacità ve ne ho già parlato prima adesso le stiamo correlando agli obiettivi specifici di apprendimento stiamo dicendo che le capacità grazie a conoscenze sapere e abilità saper fare si trasformano in competenze allora se parliamo di obiettivi specifici di apprendimento non possiamo non parlare di obiettivi formativi o f che cosa sono questi obiettivi formativi facciamoci sempre la domanda e cerchiamo sempre di rispondere allora lo studente deve arrivare trasformare il processo formativo che che viene percorso all'interno dell'anno scolastico e gli obiettivi specifici dell'apprendimento relativi quindi anche alle competenze tutto ciò deve essere trasformato in obiettivi formativi e quindi diamo ancora una definizione sono obiettivi di apprendimento effettivamente adatti alla maturazione dello studente fatemi sapere insomma se vi piace questo tipo di approccio reticolare nel quale è anche un pochettino tabellare diciamo che va anche per elencazione però un'elencazione non casuale ma vengono ripresi termini molto utilizzati che usiamo spesso e vengono un pochettino definiti anche creando delle connessioni tra i vari termini i psp i piani di studio personalizzati psp piani di studio personalizzati ovviamente la domanda che siccome noi diamo sempre un un qualcosa condividiamo condividere esperienze conoscenze sia per il concorso sia anche per docenti di ruolo ovviamente cerchiamo sia di fare di porcelo come di porci queste questi concetti a forma di domanda sia cerchiamo di dare le risposte sia comunque cerchiamo di unire il tutto per rendere fruibile il video a tutti allora i psp vengono citati nelle indicazioni nazionali ormai non esistono più cioè il programma che segue l'insegnante è funzione di ciò che viene definito nelle indicazioni nazionali e i psp sono un insieme di unità di apprendimento effettivamente realizzate con eventuali differenzazioni che magari si rendono opportune per i singoli alunni nel corso dell'anno chiudo le virgolette poi sempre all'interno delle indicazioni nazionali si riesce a evincere anche che i piani di studio personalizzati fanno presente anche ad una ispirazione culturale e pedagogica e devono tener conto anche di collegamenti con gli enti territoriali essi comunque si vincono anche da top dal piano triennale dell'offerta formativa e per concludere anche questa parola avete ne avrete sentito parlare spesso di questo insieme di parole portfoglio delle competenze individuali domanda potrebbe essere cos'è il portfoglio delle competenze individuali è un documento della scuola potremmo anche dire innovativo è una struttura che ha una funzione attraverso schede e documenti di valutare e orientare personalizzare in maniera efficace in maniera coerente gli strumenti di valutazione e di orientamento come al solito alla fine del video faccio anche qualche commento io vi chiedo scusa se la scrittura non è il massimo tanto quello che scrivo le cose più importanti che dico le scrivo non guardo mentre scrivo non guardo non riesco a vedere contemporaneamente la lavagna e la tavoletta grafica io adesso sto utilizzando la tavoletta grafica perché quando tratto questo tipo di argomenti è comodo avere diciamo il personal computer sicuramente diciamo che abbiamo detto tante 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 cose come al solito alla fine del video vi dico se vi è piaciuto mettete un bel mi piace iscrivetevi attivate la campanella per essere sempre aggiornati su tutto ciò che di nuovo avverrà e qui sotto potete lasciare dei commenti che mi fa sempre piacere leggerli e se volete potete anche condividere il video io con questo vi mando un caloroso saluto e vi ringrazio alla prossima grazie a tutti